Le associazioni ambientaliste di Pescara si interrogano sul destino del circolo Canottieri. Italia Nostra della sezione di Pescara in particolare si è mossa al fine di stoppare gli interventi di taglio degli alberi intorno all'area in ristrutturazione firmando la denuncia nei confronti della soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio della provincia di Chieti e Pescara che dichiara intende proseguire i tagli previsti nonostante i termini di legge vietino abbattimenti da marzo a luglio per la protezione della vifauna. Ieri mattina ci siamo accorti dell'inizio del taglio, abbiamo subito presenziato il cantiere e chiamato vigili urbani e carabinieri forestali. Progetto che noi contestiamo non per la ristrutturazione naturalmente dell'edificio ma nell'idea di togliere tutti quanti i dieci pini per una questione puramente formale perché come possiamo vedere anche nell'ordinanza e nell'autorizzazione che è attaccata qui sul cantiere la richiesta di abbattimento dei pini è per un impedimento visivo nel senso che la soprintendenza nell'anima della progettazione ha idea che questo edificio si debba guardare a 360 gradi e quindi i pini ostacolano questa visione. Quello che noi contestiamo che non può essere un progetto deve essere contestualizzato nei bisogni e nel momento odierno. Se in questo momento noi abbiamo bisogno disperato di alberi, se la direttiva e le leggi della Next Generation UE che non stanno facendo altro che puntare alla ripiantumazione di alberi, 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 quando noi abbiamo degli alberi ad alto flusso di questo tipo devono essere conservati anche perché loro stessi hanno un vincolo storico. Non possiamo screditare questi dieci pini come oggi ha comunicato la soprintendenza nel suo ultimo comunicato stampa dicendo che tanto sono pini degli anni 60 piantati. Certo che sono stati piantati, sono stati piantati tutti gli alberi di Pescara e non per questo hanno una valenza storica. Lo stupore è proprio qui. La soprintendenza è lente, preposto a conservare il nostro paesaggio. Trovarci noi associazioni ambientaliste a combattere un'idea della soprintendenza in questo momento è una sconfitta culturale per noi.